Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai Quest'Italia che cambia, siamo noi Il Festival della Rigenerazione è stata un'esperienza fantastica Le persone hanno viaggiato, riflettuto, espresso, incontrato Se stessi in risonanza con gli altri e gli altri in arricchimento per se stessi Sono venuti tanti relatori che hanno portato le varie sfaccettature del cambiamento Mi ha commosso questa grossa partecipazione femminile, giovane L'idea di questo festival è nata da una sfida Una sfida in cui fare eventi che rigenerano se stessi prima Quindi meditazioni, musica e danza Poi che rigenerano la propria comunità, quindi rigenerazione urbana ad esempio E poi rigenerare il mondo Dei batteri che sono resistenti a delle temperature altissime, delle temperature freddissime Che vivono nell'acido, vivono senza ossigeno Che sono capaci di sintetizzare altri elementi chimici che neanche conosciamo E, 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 eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui Un'auto organizzazione senza struttura, senza ruoli Ma con la voglia di essere tutti insieme Insieme In umiltà E, ricordo, felicemente imperfetti Perfetti